Sì, signor Ignacio? Sì. Sì, sono Ima di nuovo, la ragazza di Iera. Allora, per quanto riguarda la bolletta, adesso ce l'hai attualmente in mano? Aspetti che le passo Tonino, che è lui che sa tutto. Aspettiamo solo. Sì, sì, aspetta qui in linea, non ti preoccupare. Tonino, è quella della bolletta. Pronto? Sì, pronto. Sì, chi è? Io sono Ima e chiamo per conto di Iera, ho lasciato con il signor Ignacio di valutare. E penso che noi diamo la possibilità di avere una tariffa di solo 4 centesimi. Ma voi eravate parlato con Ignacio? Sì, ho parlato prima con Ignacio. Eh, perché Ignacio è malato, lo sapete, ve l'ha detto che è malato. No, non mi hai detto, mi hai detto che io faccio il signor. Eh, c'è la bronchite, la bronchite, la bronchite, c'è malattie varie, voi l'avete... Cosa vi serve? Non ti chiami che è un pezzo io. Allora... Cosa le serve a lei? Mi dica a lei, cosa le serve, glielo do io, dica. Ti sto dicendo, mi dica quello che le devo dare, cosa le serve, una bolletta, cosa le devo dare? Cosa le serve a lei? Allora, nella seconda pagina... Una bolletta, cosa le devo dare? La bolletta? Sì, la bolletta mi serve. Di che cosa la bolletta? Mi serve il consumo. Il consumo di che cosa? Ma di bolletta di che cosa le serve il consumo? Della luce, della luce. Della luce di chi? Di chi? Di chi? La luce di chi? Del signor Ignazio. Il gatto. Del... Ha detto che gli serve una bolletta. Aspetta, aspetta poco poco. Ignazio! Ah! Guardate che buona bolletta questa. Ah, la luce sta minchia a bolletta. Aspettiamo... Signora! Signora, aspettiamo un attimo che le lo sto chiedendo. Ignazio! Sì, va bene. Ehi, cosa vuole una bolletta a bolletta? Ehi, dargliela per la bolletta. Ehi, ascolti. Che cosa le deve dare? Scusa? Cosa le deve dare, Ignazio? Che bolletta vuole? Della luce. Della luce? Eh, ma della luce di chi? Di chi la vuole la luce? La mia o di chi la vuole? Allora, se lo segni... Allora, Siena, e lei un parere? Se lo scrivi, su Tonino, Tonino. Tonino Michemolenti. Tonino Michemolenti. Piacere conoscerla. Ciao. Allora, lì un parente, eh? Tonino Michemolenti. Segna, Tonino Michemolenti. Sono il cognato. E il cognato, lei? Eh, sono il cognato. Ah, questa buona bolletta bolletta bolletta. Vieni via, scusa. Cosa le serve di... Tonino Michemolenti, segna. Benissimo. Signor Tonino, stiamo parlando per la sua casa? No, io sono Tonino. Ma lei che cosa le deve dare a lei, Ignazio? Allora, noi ti diamo la possibilità di pagare di meno per quanto riguarda le... Eh, ma cosa deve pagare di meno? Cosa le serve a lei? Per la luce. Per la luce... Di pagare di meno? Eh, ma la luce di chi? Di chi? La luce di chi vuole? Di che lavora è lei la luce? Scusa, lei mi capisce? Non mi capisce quando io parlo. Io ti sto dicendo... Io ce l'ero capendo, ma lei di che lavora è la luce? Di me o di Ignazio? Di c'è. Parliamo per lei. Allora, segna. Tonino Michemolenti, segna. Sì. Allora, signor Tonino, lei attualmente con quale fornitore si trova? Mi chiami Michemolenti, che Tonino mi chiamano gli amici. Io non le conosco a lei. Con quale fornitore si trova lei attualmente? Eh? Con quale fornitore si trova lei attualmente? Sono io il fornitore. Sono io, Tonino. Sono io il fornitore. Come si chiama il vostro fornitore? Tonino. Tonino. Tonino è il tuo nome. Sto dicendo per la luce. Sì. Con quale fornitore? Minchemolenti. Sì, come si chiama il fornitore? Minchemolenti. Scusa, sto dicendo come si chiama il fornitore? Sì, Minchemolenti. Come? Il tuo fornitore si chiama così? Sì. E non è il suo cognome? No, io sono Tonino. So. Bene, prendimi una fattura sua. Scusa. Eh? Prendi una fattura sua. Mi prendi una fattura. Eh? La fattura? Una qualsiasi? Sì. Sì, una qualsiasi. Eh, perché c'ho la fattura che stamattina ho comprato, le pastiglie dei freni e il motorino. C'ho un chiaccio di quelli tipo Caballero, ce l'hai presente? Quando gli imprenda la... Sì. Se va bene anche così... Si, percami una fattura. Lo vuoi anche così la fattura? Sì, voglio una fattura. Sì, una fattura qualsiasi, anche se ho comprato... Sì, qualsiasi. Le pastiglie dei freni per il motorino. Sì. Aspetta, eh. Sì. Ma io mi salvatto le... Prendimi lo salvatto. Ecco. Ehi, portala qua. Ehi. Dammela qua. Allora, mi dica, cosa vuole... Che cosa è scritto nella fattura? E nella fattura... Come ti chiama il fornitore? Eh? Che cosa è scritto nella fattura? Come ti chiama il fornitore? Eh? Ah, Gip. Ah, ah. Ah, ah come... Amicu. Ancona? Sì, e poi... Amicu. G come... Gindoli spaghi e minchia. Sì. I. E poi? I come inazio. I. 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 E poi? P. D. P. Lona. Torino? No. P. D. Mi... Come si dice? Allerma. E. Eh, 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 quelloni, eh, igu. Sì. Eh, igu. E poi? Eh. Agis? E poi? 13. Agis? 13. Allora un attimo. Eh. ma non c'è nessun caso allora questa è la fattura sua giusto? la fattura sua benissimo allora lei vuole pagare di meno? eh? lei vuole pagare di meno? noi ti diamo la possibilità di pagare di meno? eh ma io l'ho già pagata e questo e quello l'ho già pagata l'ho pagata 50 euro le ho già montate anche le ho già anche montate le ho montate no, è dove si ha chiuso? non si sa te niente grazie quanto? pronto pronto? si mi sente? si mi sente? eh già ti sento dimmi allora sto dicendo le voglio approfittare di pagare di meno? noi ti diamo la possibilità di pagare di meno eh sei mezz'ora che lo stai dicendo ma ora vi rendi vero scusa? è che lo sei dicendo mezz'ora e stai pagando di meno mi spiegando sta molto su un pochetto vero allora allora per quanto riguarda la luce lei si trova a Caonaggi giusto? eh ya scusa? eh ya ho detto e io però che devo pranzare ma muoviti però aiuto asia po asia 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 asia